buongiorno stanotte ha nevichato piovuto vediamo qua si c'è un po di neve che figo luca è dentro al sarcofago e ora ci prepariamo in ripartenza come vedete ancora abbastanza freddo quindi rimaniamo coperti siamo a 2200 elottimetri il percorso è questo meraviglia è imbiancato tutte le cime stanotte tutte le cime che ieri erano marroni stamattina sono tutte bianche infatti abbiamo sentito anche sulla tenda la neve cadere questa notte neve e ghiaccio a luca gli ha fatto parecchia condensa e si è trovato il saccappello abbastanza bagnato infatti oggi a pranzo cercheremo apriremo un po tutto per far asciugare il materiale ok a più tardi adesso andiamo su poi andiamo a palla hai fatto le misure scaldate le mani su i piedi ancora ce l'ho gelo quelli sono magnati mi sa che saremo sui 25 non lo so perché non ho l'altimetro impostato adesso infatti che lo vedremo da qui vedete che dura non ho l'altimetro no ho l'altimetro no ho l'altimetro un'altra montagna vedi dopo una cima è bello che meraviglia bello dobbiamo farci la cresta neve ghiacciata proprio il ghiaccio si sentiva scendere bello copioso ma il problema della monotelo è proprio quello che sono leggerissime ma ti arriva tutta la condensa addosso non c'è ventilazione e poi i sacchi le bivitend come questa qua di ferrino e l'auto di camera il passaggetto sopra la twill è finto questo albero ti avevo quasi creduto siamo arrivati alla twill sono le campane ok adesso mangiamo un monoscovo per cazzo hai trovato? si sta lì una roccia il barbone di montagna tipico vero tipico barbone di montagna che meraviglia che meraviglia è bellissimo 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 ti Allora, l'ultima sale e la baica di computer rimane in cima appena dietro, forse va. Che meraviglia! Ciao! Guarda qua che valle! Bella, mamma mia! Dai, due! Ciao! 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 che meraviglia Amma mia Sì senti che silenzio un po' di sottotitolo e se domani cagano tutto rosa mamma mia guarda questa montagna intrappolati nella valle dei ghiacci si stava proprio nel video bene adesso scendiamo a valle si scende a valle spero stasera forse ci siamo sistemati un po meglio siamo pure in compagnia il posto è riparato non siamo troppo in quota bene là in fondo c'è il monte bianco non so se si vede bene ci prepariamo un po di cena grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.